Come so adesso? Più pesante le tecniche? Si, perché poi il colpitore che vi va incontro raddoppia l'impatto e allora si comincia a sentire molto di più Per adesso basta, quello che facciamo, lei me docca 1, 2, 1, 1, 2 Guarda adesso Qua lavoriamo tutto sulla struttura delle spalle e sul colpo E allora si comincia a sentire Perché se no, se andiamo sempre ai moschetti lì Che succede? Al primo colpo forte, il polso si piega e mi faccio male E poi comincia a essere un lavoro di tonicità Fatico, fatico, fatico Allora, adesso invece torniamo un attimo al lavoro che dovete fare voi Le palette tutti quanti, veloci Le palette vi ricordate? Ci divertiamo un po' Le fascette non le levate No, no, le pie là